Il ruolo dell'anestesista è spesso misterioso, per cui la SIARTI, che è la società italiana di anestesia e terapia intensiva, ha deciso di creare degli eventi per cercare di far conoscere alla popolazione quello che è il ruolo dell'anestesista. In realtà quello dell'anestesista è un ruolo molto importante nell'ambito delle attività ospedaliere, perché oltre a somministrare l'anestesia in sala operatoria, l'anestesista si occupa anche di tutta la parte di preparazione del paziente all'anestesia, quindi eventuali esami, eventuali indagini diagnostiche supplementari per capire bene qual è la situazione clinica del paziente. E poi si occupa anche del periodo post-operatorio, non soltanto per quanto riguarda la cura del dolore, cercare di controllare appunto l'insorgenza del dolore, ma anche di monitorare quelle che soprattutto nei pazienti più complesse sono i parametri vitali. Per questo motivo nel corso degli anni l'anestesista è anche uscito dalla sala operatoria e si è occupato della terapia intensiva post-operatoria, cioè dei luoghi protetti in cui seguire proprio passo a passo il paziente, tenerne monitorate i parametri vitali, cioè il respiro, l'attività cardiaca, eccetera, attraverso tutti i sistemi dei monitor. E quindi è divenuto praticamente naturale che poi l'anestesista diventasse anche rianimatore, ci occupasse cioè anche della cura di tutti i pazienti più complessi che vengono ricoverati in ospedale. Sempre grazie a queste sue competenze inizialmente acquisite in sala operatoria, trasferite poi in rianimazione, è divenuto naturale che l'anestesista si occupasse anche della urgenza e emergenza. Infatti per esempio i sistemi di intervento avanzato attraverso le ambulanze, quindi con la rete del 118, si basano sulla presenza dell'anestesista che interviene in tutte le situazioni più critiche che vanno dalla rianimazione cardiopolmonare al trattamento di tutte le patologie cardiache e respiratorie più acute che richiedono quindi una specifica competenza sull'emergenza anche prima del trasporto in ospedale. Per cercare di far conoscere alla popolazione il ruolo dell'anestesista, la Società Italiana di Anestesia e Terapia Intensiva, la SIARTI, dall'anno scorso ogni anno organizza un evento, vengono istituite delle postazioni all'interno di molti ospedali italiani attraverso le quali è possibile fornire a tutti i cittadini che per vari motivi vengono in ospedale dell'informazione circa il ruolo dell'anestesista e l'importanza della nostra figura professionale all'interno dell'ospedale e non solo. Questo evento denominato SICURA e quindi incentrato soprattutto sulla sicurezza che la presenza dell'anestesista fornisce nell'ambito della struttura ospedaliera ma come abbiamo visto anche sul territorio è un momento quindi informativo in cui verranno anche distribuiti dei materiali a scopo didattico informativo alla popolazione. Grazie a tutti.